Duro attacco dei sindacati all'azienda che gestisce la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti nel comune Giulianova. Amedeo Marcattili della FPCGL e Massimo Di Carlo della FIA del sindacato autonomo che opera nell'ambito dell'igiene ambientale attaccano definendo quanto sta avvenendo nel comune costiera una farsa. L'azienda ancora non ci ha risposto, doveva risponderci entro il 15 di giugno. Noi abbiamo chiesto l'incontro al sindaco, il sindaco ci ha convocati per giovedì 4 luglio alle ore 10 e a lui spiegheremo le motivazioni del perché noi stiamo percorrendo questa strada anche dei comunicati stampa perché l'azienda non ha risposto a determinate richieste che poi sono previste nel contratto nazionale. Oltre a questo vorremmo chiedere anche al sindaco per quanto riguarda il capitolato d'appalto lì sono previste per il periodo estivo l'assunzione di 17 operatori ecologici, cosa che non è mai stato fatto per cui chiederemo al sindaco se ha intenzione di costringere l'azienda a rispettare il capitolato d'appalto. Nel frattempo continuano i problemi anche alla teroma ambiente, visto che proseguono i litigi dentro la compartecipata del comune. Ci sono problemi, noi anche lì abbiamo fatto riunioni su riunioni in provincia, nell'ufficio di relazioni industriali. Avevamo accolto la proposta del sindaco di avere in sede aziendale un tavolo tecnico che si è riunito una sola volta il 5 di aprile e poi l'azienda non ha dato più risposta. Adesso ci troviamo con un'azienda senza presidente e che praticamente non risponde più alle richieste dei lavoratori. Teniamo conto che c'è un piano ferie e questa non rischia di saltare. Noi, come abbiamo scritto nel comunicato stampa, oggi tutti i massi medi di questi giorni dicono che c'è un gran caldo. I lavoratori della Team, nelle ore più calde del giorno, stanno lavorando per tenere pulita la città. Meritano rispetto. Meritano rispetto.